Finalmente è arrivato il signor Conte Se vuoi sapere dove sei andato col caretto dalla ditta? Abbatte il record mondiale a cronometro Coronari, panico, zoccolette e capi zucchi 10 minuti e 27 secondi spacchiati No, dico ragazzi, testimoni E la spacco io la testa Se nulla pianti ne fai ridicolo E il caretto serve per lavorare Chiaro? Per lavorare